buongiorno a tutti qui arduino schenato dai arforex.com e in questo video voglio andare a fare un'analisi e una view operativa su un cross valutario che non faccio molto ma che prende due valute molto molto interessanti che trado spesso e che sono nella mia watch list praticamente giornalmente e sono l'australia dollaro sul dollaro americano e il dollaro americano sul dollaro canadese insieme questi due cambi nativi creano il cross outcad australia contro canada quindi la valuta australiana al dollaro australiano contro la valuta dollaro canadese outcad dico questo perché stavo iniziando a guardare un po i vari cambi i vari mercati che seguo per la mia pianificazione di fine settimana per il operativo e solitamente a fine settimana sono solito andare a vedere comunque anche gli altri gli altri cross osservare un po cosa sta succedendo e mi sono trovato di fronte a un cross valutario che a mio avviso possiamo seguire durante la settimana e che è molto interessante da un punto di vista operativo anche per quello che ha lasciato non solo nella struttura settimanale degli ultimi tempi ma anche proprio come trigger giornaliero venerdì ma in generale proprio come struttura degli ultimi giorni quindi nel breve termine allora andiamo a prendere intanto il cambio outcad insieme eccolo qua molto bene allora guardate questo qui è il cambio outcad quindi abbiamo detto valuta australiana contro valuta canadese con una chiara estensione al rialzo nei prezzi abbiamo visto anche il dollaro australiano insomma rafforzarsi molto nell'ultimo periodo e nelle proprio nelle ultime settimane ultimi mesi e mezzo due tre mesi da praticamente da qui da da metà agosto primi di settembre c'è stata questo lieve box per poi vedere un ritracciamento nei prezzi cosa si è creata si è creata una pin bar su un'area chiave 0.9350 0.93 eccola qui sul settimanale si vede molto bene e questa pin bar dopo aver breccato al rialzo al ritracciato ha fatto nuovamente un movimento rialzista e adesso si è posizionata al di sopra di 0.95 che è un'area chiave è un'area importante quindi ci sono queste tre aree chiave diciamo l'area 0.9350 0.93 0.95 e 0.9660 0.9650 se vogliamo essere io qui avevo preso eccolo qua avevo preso poi nel passato un po più ampio la mia estensione appunto dove c'è più c'è stata più offerta di dollari australiani rispetto ai dollari canadesi e quindi che cosa si forma sul settimanale poi notiamo appunto questo minimo c'è stata questa gamba rialzista che prende da questo minimo a questo massimo adesso lo andremo a vedere meglio sul grafico daily da qui c'è stato questo ritracciamento poi il mercato è salito quindi ha fatto uno swing low continua e l'ultimo swing low è di tre settimane fa l'ultima settimana è una barra di indecisione che fa però dall'ultimo bacio diciamo a allo 0.95 bene quindi la struttura diciamo nel breve sembra chiamare un rialzo scusate un rialzo dei prezzi verso area 0.9650 0.9660 assolutamente interessante quindi andiamo su grafico giornaliero per capire un po più nel breve che cosa si può fare che cosa si potrebbe andare a vedere da un punto di vista proprio di trading di breve termine quindi di qualche giorno allora tutto questo rialzo che c'è stato se voi andate a prenderlo è abbastanza chiaro qui ovviamente il daily ha 5 candele cioè una settimana è formata da 5 candele daily quindi ci sono più barre che alla fine ci mostra la stessa cosa vediamola un po più nel dettaglio quindi movimento di rialzo swing movimento nuovamente di impulso rialzista swing movimento di impulso rialzista swing lo swing arriva come potete vedere appunto nell'area chiave e arriva bene non arriva in maniera violenta o con una volatilità sia appunto aggressiva e che fa presagire una presa di posizione dei venditori rispetto ai compratori ma tra l'altro poi con la giornata di venerdì di ieri c'è stato questo grande rialzo nei prezzi che si è mangiato completamente la settimana e la giornata precedente andando a rompere il massimo precedente e formando quella che è una ftv power quindi una delle dei pattern diciamo che io utilizzo nel mio trading mi sono creato negli anni dopo aver visto tante strutture di prezzo e tante dinamiche in questo caso questa ftv perché ovviamente come tutte le cose nella price action ma in qualsiasi operatività discrezionale come la mia va sempre ragionata ovviamente c'è chi parla male della price action perché non è mai riuscito a capire esattamente cos'è la price action va bene così lasciamoli parlare ma il detto keep it simple e cercando di ovviamente andare in profondità delle dinamiche di prezzo è la cosa migliore da fare quindi manteniamolo semplice cerchiamo di capire quello che accade non tutte le figure di price action non significa la price action totale la price action è fatta di svariate cose la volatilità gli swing i livelli i trend e poi alla fine i segnali trigger quindi le pin bar eccetera eccetera tutte queste queste cose vanno sempre contestualizzate in un momento in quel mercato in quella situazione detto questo comunque la situazione è questa voglio farvi vedere anche siccome comunque il prezzo del forex è denaro lettera andiamo a vedere un attimo sia il prezzo in denaro vedete che comunque non cambia nulla sia col prezzo in denaro che col prezzo in lettera è uguale la situazione va benissimo mettiamo il medio così abbiamo una estensione del prezzo medio e in questo caso quindi abbiamo una un trigger molto interessante una struttura weekly interessante abbiamo un trigger quindi diciamo possiamo valutare un'entrata il minimo precedente all'ftv è appena sotto 0 95 round number numero tondo e poi recupero questa è una confluenza in più che mi piace poi andiamo a prendere le estensioni di volatilità della gamba rialzista minimo massimo che ha creato poi il movimento di ritorno long allora prendiamo ecco qua prendiamo il le estensioni quindi prendiamo il minimo ok e il massimo del movimento che poi ha generato il vero movimento rialzista ok facciamo così molto bene allora intanto notiamo che adesso qui non ho il ritracciamento del 61,8 questo qui sarebbe del 38,2 ovviamente perché da qui vediamo se riesco a farlo più giusto ok perché da qui ovviamente qua all'incirca dove dove si è praticamente appoggiato il prezzo rispetto a questo movimento è circa il 61,8 quindi allora prendiamo la pennetta andiamo a vedere se la trovo ok si è aperta allora questa zona qui è la zona 61,8 di ritracciamento di questa leg che trovate qua in blu ok quindi recupero lui quindi noi prendiamo questo minimo e massimo qui lo estendiamo e notiamo una cosa molto interessante cioè se ne andiamo a prendere le estensioni come spesso accade queste creano proprio nel movimento poi long successivo diciamo delle degli scalini quindi il movimento si muove fa tappa da una parte all'altra e prende il suo il suo movimento quindi in questo caso specifico come si può notare il mercato poi è arrivato qui che c'era l'area 130,90 ha recuperato il cento per cento poi è ritornato qui è andato al 161,8 importantissimo livello boom riparte rigiù e fa una bellissima chiusura che mi avviso conferma ancora di più la nostra dinamica quindi va a ritestare la zona precedente praticamente e recupera andando addirittura a chiudere praticamente al di sopra comunque nei pressi della zona 161,8 molto molto importante formando il nostro trigger e l'estensione successiva guardate un po' dove va va proprio a 0,9646 0,9650 che è il mio livello nonché livello molto chiaro per tutti si nota abbastanza facilmente e qui keep it simple ricordiamolo eccolo qua abbiamo una zona di offerta molto chiara che i prezzi ce lo dicono qua stiamo su un grafico giornaliero si nota su un grafico settimanale io i livelli li ho segnati su un grafico settimanale non stiamo su un grafico a 5 minuti o a 3 minuti che sono grafici diciamo che da un punto di vista di prezzo sono ridicoli no sono poco accurati qua in questo caso abbiamo un'accuratezza di input veramente molto 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 importante quindi ecco che la zona 211,8 estensione successiva e poi avremo questa zona adesso vi faccio vedere una cosa è sicuramente interessante già solamente se io volessi pensare a fare un trade qui se voi andiamo a prendere poi la struttura di questa situazione adesso andremo anche a capire qui che cosa fare ma al momento il minimo massimo è questo quindi avendo il minimo massimo che è questo anche se poi valuteremo allora scusate facciamo un attimo il ritracciamento di questo il ritracciamento di questo di questo minimo massimo se voi andate a vedere l'area 38 e 2 0 95 47 a mio avviso quest'area la migliore perché perché guardate vedete 0 95 47 è quasi corrispondente con il 161 auto di prima e se io vado a prendere la zona di massimi precedenti importanti guardate qua quindi le chiusure 0 95 47 quindi diciamo che 0 95 47 e ci prendiamo una bella linea siamo così 0 95 49 sbagliato prendiamola da punto a punto facciamo così così almeno ecco qua 0 95 47 più o meno su quest'area qui è la zona di acquisto quindi questo punto di acquisto e se io vado a duplicare quindi faccio duplica e vado a metterlo qua sotto il mio stop loss e poi raddoppio e duplico qui il mio punto di target può diventare la zona 211 8 noterete che ma è molto facile prendiamo anche un righello guardiamo un po' eccolo qui abbiamo praticamente circa 95 pips di stop se non vedo male 95 c'è scritto aspettate che vediamo un po' se riusciamo a vederlo un po' meglio ecco qua no no sono 54 pips di stop scusate e 0 57 per cento di movimento quindi se vado a duplicare tanto per farvi capire il tipo di cosa allora duplichiamo poi prendiamo questa e la portiamo su guardate ecco qua riduplichiamo ancora duplica lo prendiamo e guardate un po' cosa succede praticamente sull'area di target entrando su questa zona con stop lievemente sotto i minimi lasciando un po' di spazio abbiamo anche un rapporto di rischio rendimento che praticamente è in area 1 a 2 quindi significa che se io investo facciamo esempio 100 qui io su quest'area ho all'incirca 200 facciamo non 200 ma 180 quindi ho un ottimale risk reward su questa operazione in questi termini andiamo a vedere poi anche il tipo di di cose che si possono commentare successivamente perché se io vado poi a prendere andiamo settimanale ok se io vado a prendere poi guardate un po' che cosa succede se io vado a prendere visto anche la struttura settimanale quindi dove lui è rimasto fermo da un po' su questo livello è possibile quando lui arriva qui magari si può anche un po' fermare ma possa avere un'ulteriore spinta guardate 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 se io vado a prendere il lo 0 97 40 noterete che lo 0 97 40 arriva perfettamente su questa zona di massimi precedenti che sono stati buttati giù che è il 261 8 area molto importante e il 342 7 guardate qua arriva perfettamente sulle chiusure successive non parliamo di questo che arriva sull'altro massimo ma questi due qua sono livelli sicuramente buoni già questo il 261 8 arriva su un massimo molto importante massimo con falsa rottura rialzo e poi buttato giù quindi se io poi ovviamente vado a valutare anche questa situazione e quindi vado sul daily e vado a prendere tutta la mia il mio possibile deal vedete che il fatto che io possa anche ad avere un target maggiore quindi magari mettere un target qui e vedere qui che succede quindi non uscire direttamente con un ordine limite comunque con un take profit automatico qui magari lasciare spazio mettere un target più ampio 97 40 261 8 e se qui dovesse avvenire una price action che ci indica un ribasso ovviamente si uscirà manualmente a mercato ma se invece spara su ecco che qui diventa invece l'obiettivo più interessante e a quel punto anche il nostro rapporto di rischio beneficio diventa ancora più importante perché se avevamo come vi dicevo un 1 a 2 circa su questo livello voi provate a pensare andiamo sul righello guardate qua siamo così tac se avevamo 0 58 diciamo da da qui quindi uno 56 pip di rischio guardate se si va a prendere questo obiettivo diventano 190 pips di rendimento quindi facciamo anche 60 pip di rischio 6 12 18 190 diventa maggiore di 1 a 3 e e quindi vuol dire sempre all'ottica di vedere fatto 100 l'investimento da quindi di questa zona qui io vado a guadagnare magari 300 320 quindi diventa ancora migliore e quindi una posizione che ha una marginatura una redditività molto interessante ecco che quindi direi che andremo a vedere questo poi per concludere lo vorrò valutare anche per il fatto che vediamo un po che succede nel senso che se dovesse poi andare direttamente allora facciamo una cosa togliamo un attimo il ok le estensioni se dovesse andare a sparare su subito quindi fare subito un massimo senza ritracciare mai a quel punto probabilmente poi magari inizia a fare un ritracciamento potrei prendere il minimo massimo da qua e fare un entrata comunque buona nei giorni successivi sempre con lo stesso obiettivo ovviamente qui poi dovremmo valutare un po la il tipo di dinamica che si sta creando sicuramente molto interessante poi non vi ho detto la cosa che comunque molto chiara se io vado a prendere anche sono un sacco di confluenze in questo in questo mercato in questo momento se vado a prendere guardate il ritracciamento anche dell'ultima leg rialzista arriva sempre proprio guardate qua nel giusto ritracciamento giusto ritracciamento il ritracciamento perfetto quindi diciamo che tutto è molto molto confluente mercato che seppur non è un mercato che non la watch list principale io trado australia e canada soprattutto sul dollaro ma questo è un cross che mi avviso la prossima settimana la si può seguire anche in ottica appunto di trading per andare appunto alla ricerca di quelle zone un po più alte molto interessante bene spero che per oggi abbiate così anche un po visto da un punto di vista operativo come si come ragiono e per oggi è tutto vi dico che vi comunico insomma che c'è sicuramente una un'ottima un'ottima opportunità adesso ve la vado a prendere e questa opportunità arriva in due modi uno andando a iscriversi diciamo al servizio platino sapete che servizio platino è una scuola diciamo un modo per stare insieme noi con voi e quindi di migliorare l'operatività ogni giorno cercando appunto di farvi vedere come ragioniamo come per esempio magari in questo caso da un punto di vista operativo e poi l'undici e il dodici di dicembre prossimo come avrete visto e come ormai vi stiamo dicendo da un po abbiamo creato diciamo un corso qui di near forex un corso che sarà ve lo mostro un corso che sarà dedicato appunto a tutti i traders che vogliono approfondire le nostre tecniche ma non solo perché il corso si svolge in due giorni come potete vedere 11 12 dicembre e avrà un programma molto ricco quindi sia la parte più tecnica nei grafici ma anche la traders mindset quindi tutta la parte un po più come dire ecco come potete vedere i processi decisionali di consapevolezza mindset eccetera eccetera quindi se volete approfondire come ragioniamo che quello che facciamo sicuramente questo è può essere il posto giusto sono otto ore tutte direttamente da casa tutte registrate quindi poi avrete la registrazione anche se non potete essere attivi nel video e potete partecipare avrete la registrazione io a questo punto vi saluto vi auguro un buon trading simple vi chiedo di mettere un mi piace se il video ovviamente vi è piaciuto e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao a tutti ciao